Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo organizzato una manifestazione per cercare di capire qual è l'atteggiamento delle donne e non solo, perché abbiamo anche degli uomini quest'oggi, verso il mondo della moda. Vinci il tuo outfit, Shopping Day, cerchiamo di dare una spiegazione di quello che è successo e di quello che accadrà fra poco su questo palco. Vinci il tuo outfit è un concorso ma più che altro è una gara a colpi di outfit, a colpi di look e quello che piace a noi dell'organizzazione è definirla però un gioco effettivo, non vogliamo che sia una gara vera e propria. Abbiamo scelto quindi dei concorrenti che si mettessero in gioco, che volessero in qualche modo partecipare in maniera simpatica, che si prendessero per la prima volta in gioco e affrontassero insieme a noi questa avventura. Abbiamo fatto i casting e alla fine abbiamo scelto sei concorrenti e il gioco consisteva in questo, abbiamo registrato mercoledì 25, in questo modo ad ogni concorrente è stato dato un tema, mezz'ora di tempo e una lista di negozi dove attingere per poter creare l'abbigliamento che loro reputavano più adatto al tema che gli è stato dato. Tutto questo è stato registrato e la giuria che è qui con noi valuterà quella o quello che secondo loro ha meglio impersonato l'Hatvi stesso. Buon divertimento a tutti, finché è il migliore! Uno, due... Buon divertimento a tutti. Buon divertimento a tutti. Buon divertimento a tutti. prima edizione shopping day vinci il tuo outfit centro commerciale porto grande the winner is francesca pagliarini francesca pagliarini fai la passerella l'applauso di tutto il centro commerciale francesca bene un saluto a claudio senerchia paola bagalini grazie ciao a tutti grazie alla prossima un bacio grazie di nuovo grazie a tutti